Sani Insieme non è una polizia assicurativa. Tecnicamente possiamo dire che Sani Insieme è un piano sanitario collettivo ad adesione individuale. Cosa significa? Significa che è un piano sanitario che è stato precostituito a monte tra un fondo sanitario, Previ Salute, RBM che gestisce questa rete di strutture convenzionate e ConfCommercio. L'adesione individuale perché chi ha il requisito di associato è libero di aderire individualmente o inserendo anche il proprio nucleo familiare. Ha dei vantaggi non indifferenti. Prima di tutto una detraibilità del contributo del 19%. Poi la garanzia che il contributo richiesto non viene gestito e trattato tra le parti ma è già stabilito a monte. Non potrà nemmeno subire aumenti in caso di aggravamento dello stato di salute dell'assistito. Tra l'altro al momento dell'ingresso non viene verificato lo stato di salute né tramite un questionario né tramite una visita preventiva. E quindi già dal primo mese è possibile usufruire di tutte queste opportunità anche perché naturalmente poi ogni prestazione ha il suo periodo di carenza che dovrà essere verificato. Ma per esempio per la prevenzione, per gli infortuni, per l'acquisto delle lenti non sono previsti periodi di carenza quindi già dal momento della sottoscrizione è possibile sfruttare queste opportunità. Tra l'altro un piano molto vantaggioso per gli associati perché insomma il costo è veramente minimo. Sì, il piano è davvero molto vantaggioso. Abbiamo sempre detto che con 50 centesimi al giorno l'imprenditore può darsi questa copertura e aggiungendo ulteriori 50 centesimi può coprire anche tutto il suo nucleo familiare. Tutti i nostri uffici in tutta la provincia sono disponibili sia per dare informazioni sui contenuti del piano e sulle coperture previste ma anche per attivare proprio l'iscrizione. Grazie.